Ore frenetiche negli istituti comprensivi del territorio per predisporre tutte le misure necessarie atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti per l'emergenza Covid in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Ai microfoni di TV City la dirigente dell'istituto Giacomo Leopardi Olimpia Tedeschi fa il punto della situazione e rassicura le famiglie. Voglio rassicurare moltissimo i genitori perché devono stare tranquilli. Come ho detto nella lettera che ho dedicato loro sul sito della scuola, cari genitori, la prima cosa importante è che collaboriate con la scuola, facciate la vostra parte nell'educare questi vostri figli a rispetto delle regole. Li fate venire a scuola soltanto se non hanno febbre, non hanno tosse, non hanno raffreddore, quindi rispettando anche la salute degli altri. E poi state tranquilli perché noi siamo riusciti, grazie a un lavoro in defesso, a cominciare veramente da giugno per tutto l'estate, a fare un'organizzazione tale che con qualche spostamento di classe da un plesso all'altro, qualche sdoppiamento di classe numerosa in due aule attigue, una rielaborazione dell'orario, siamo riusciti a garantire a tutti la presenza mattutina a scuola, tranne l'infanzia che farà giorni a terni. Siamo riusciti a dare a tutti le stesse opportunità. Quindi scuola con i tempi scolastici regolari, non doppi turni, non alternanze da un'aula all'altra, ma aula stabile e soprattutto gli stessi docenti con qualche piccola integrazione là dove si è resa necessaria per lo sdoppiamento delle classi. Per rispettare le distanze e le aule come sono state strutturate? Sono state strutturate in modo da rispettare la distanza minima di un metro, le rime buccali, in verità più che un metro noi siamo riusciti a garantire la distanza da un metro e venticinque a un metro e trenta da seduta a seduta, con i due metri di distanza dal primo banco e la cattedra. Abbiamo creato un'organizzazione scolastica, un regolamento che varrà per quest'anno a cui tutti si devono attenere sulla regolamentazione delle uscite e le entrate, sul comportamento da assumere, l'obbligo della mascherina in tutti i momenti di spostamento, delle sedute fisse che i ragazzi dovranno abituarsi a rispettare per evitare assembramenti, la cartellonistica e un po' tutti quei comportamenti responsabili, l'educazione a lavare le mani, l'uso del gel, l'uso della distanza di sicurezza, il fatto di star nuttire in un fazzolettino di carta, tutta una serie di regole che sono rivolte al personale che rientrano nel patto di corresponsabilità che inviteremo i genitori a sottoscrivere. Ad oggi siete ancora in attesa tuttavia del personale, sia docente che personale ATA, dedicato proprio per gestire l'emergenza. Noi non solo non abbiamo ancora il personale cosiddetto Covid aggiuntivo che abbiamo richiesto compilando appunto i tanti questionari che il Ministero ci ha mandato e ne abbiamo ancora avuto al momento i banchi e tutto quello che abbiamo richiesto o altri spazi, però non abbiamo nemmeno tutto il personale titolare. La campanella dovrebbe suonare il prossimo 14 settembre ma è probabile che ci sarà uno slittamento per la riapertura della scuola. Sì, al momento il dato è ancora il 14 settembre, quindi per noi adesso il primo giorno è il 14 settembre, però si parla di postecipare per il fatto delle elezioni e ad alcune scelte insomma ovvie, a postecipare al 24. Al momento non abbiamo ancora questa ordinanza ufficiale. Per quanto riguarda le mascherine in che modo avete provveduto? Allora, le mascherine al personale interno scolastico, quindi ATA, collaboratori e tutto il resto sono fornite dalla scuola e saranno fornite dalla scuola. Ai bambini, agli allundi, al momento noi non le possiamo fornire perché quelle mascherine promesse dal Ministero o meglio dal Dottore Arcuri, responsabile del Comitato Tecnico, non sono arrivate se non in misura molto limitata. Ce ne sono arrivate 2.000 e non è arrivato niente più e noi abbiamo una popolazione scolastica di circa 1.038 alunni, più abbiamo 14 collaboratori scolastici, più quelli che devono venire, abbiamo 7 amministrativi e quindi è impossibile fornirli quotidianamente a tutti. Se ci arriveranno li daremo ai ragazzi, però nel regolamento io invito i genitori a fornire i bambini di mascherina e se è possibile anche di un gel portatile da mettere nella loro busta così come gli chiedo di portare nella cartella un contenitore per la mascherina in modo che i bambini quando la toglieranno non la poseranno sul banco ma la metteranno nel proprio contenitore e la riporranno in cartella e una busta di plastica in cui inserire eventuali indumenti che toglieranno giacche, giacchette, cappotti, mancano ancora alcuni docenti di sostegno, però martedì sarò in provveditorato per sollecitare. Ricordiamo che la scuola ha anche più plessi e qualcuno di questi sarà seggio elettorale per le prossime elezioni. Sì, abbiamo il plesso di via Scappi, Maria Montessori che è seggio elettorale. Nel caso la scuola cominci il 14, la interromperemo lì il giorno 17 perché poi dovremo consegnare le chiavi al comune, ma quel seggio che ci sarà poi riconsegnato nel giorno 24 o 23 pomeriggio sarà già stato sanificato dal comune. Noi però ci riserviamo in quel caso di non aprire il plesso Scappi subito il 24 ma il giorno dopo o comunque faremo comunicazione sul sito onde dare ai collaboratori scolastici la possibilità di rimettere i banchi nel modo giusto, fare un'ulteriore ripulita e avere lo spazio per accogliere in modo sano e sicuro tutti i bambini. Quindi lavorare in sinergia le famiglie, i docenti per garantire una maggiore sicurezza a tutti. Per cercare di risolvere il migliore dei modi questa situazione emergenziale e garantire sicurezza e benessere c'è bisogno della collaborazione di famiglie, territorio, ente locali, docenti, ministeri, un po' a tutti. Quindi voglio proprio augurare buon anno a tutti e tanta sana collaborazione. Grazie a tutti.